Il momento è quello della calma prima della tempesta. La Caritas cremonese guarda con preoccupazione i prossimi mesi a causa della crisi dell'energia che comporterà la perdita di lavoro per tanti cittadini. Intanto si prosegue con l'aiuto alle famiglie italiane e straniere per bollette, generi alimentari e con l'accoglienza dei migranti che negli ultimi mesi sono arrivati in particolare dal Bangladesh. Ma la situazione sul filo del rasoio e il teleriscaldamento lo scorso inverno ha superato i 20.000 euro in un solo mese alla casa dell'accoglienza e le previsioni sono almeno di un raddoppio quest'inverno. Una situazione insostenibile. Sinceramente anche noi nelle nostre case, nelle nostre strutture siamo enormemente in difficoltà perché anche per noi i costi sono aumentati tantissimo. Il teleriscaldamento nel novembre 2020 era di 7.000 euro in un mese. Nel 2021 prima della guerra era di 21.000 euro. Con la proiezione dei costi ad oggi sarebbe di 56.000 euro in un mese, il mese di novembre. Sicuramente ci dobbiamo preparare. Insomma, momenti difficili. Intanto quanta gente adesso vive qui e quante famiglie aiutate tra italiani e stranieri? 170-180 le persone che normalmente vivono qua, ma soprattutto noi abbiamo attenzione al fatto di sostenere i territori. Soltanto nel 2022 di almeno 80-90.000 euro soltanto in generi alimentari distribuiti alle parlocche perché potessero essere distribuiti. E in media sono il 50% italiani e il 50% stranieri, quindi non c'è una grande differenza. Che cosa ci sta facendo paura? Di non tornare indietro rispetto alle dinamiche che avevamo iniziato in termini di accompagnamento all'autonomia delle persone. Funziona come sempre la mensa a San Vincenzo con circa 30 persone, 40 che ogni giorno si rivolgono ai volontari per un pasto caldo. I lavori proseguono alla cremente nella speranza che la generosità dei cittadini aiuti tanti progetti. In fase di avvio anche San Faccio con le case per gli studenti che saranno inaugurate il giorno di San Tomobono.